Cari spettatori, buongiorno e bentrovati all'edizione del mattino della nostra informazione. Il TG Mattina di oggi, venerdì 19 aprile 2024, Santa Emma, subito le prime pagine dei quotidiani oggi in uscita e gli aggiornamenti della notte che purtroppo ci portano in quel dell'Iran. Novara è viceo della stampa, Lara Ponti nella squadra di Orsini è vicepresidente di Confindustria. La manager di Gemme porterà l'esperienza maturata nell'azienda di famiglia, si occuperà di transizione ecologica e sostenibilità. Per il banco BPM l'ok dei soci al bilancio 2023, l'utile è di 1.200.000 euro e poi l'arte non si arrende mai. Le parole ai giovani del cantautore ossolano Alberto Fortis, lo vedremo tra poco. Con la notizia di apertura, Lara Ponti porterò in Confindustria le esperienze della mia azienda, la manager di Gemme nominata vicepresidente nazionale per il quadriennio 2024-2028. L'attenzione ai dipendenti si è sviluppata in questi anni in varie forme, da quelle relative al welfare con bonus individuali e collettivi, alle ore di formazione, all'inclusione. E il commento di Gianni Filippa, che è presidente degli industriali di Novara, Vercelli e Valsesi, ha questo incarico e un forte segnale al territorio. Mondiali di hockey a Novara arrivano altri 660.000 euro, il conto alla rovescia verso la rassegna è ridata che si terrà in città dal 6 al 22 settembre. De Grandis e gli investimenti non andranno perduti, resterà un segno a livello di impiantistica. E oggi ci sarà anche l'ultimo saluto a Piercarlo Ferrari, guerriero in pista, l'ex campione azzurro, morto a 62 anni. Da Novara un appello sul dramma dei suicidi nelle carceri italiane al Palazzo di Giustizia, letto ieri l'elenco dei 54 nomi di detenuti e agenti penitenziari morti da inizio anno. Nessun caso nella casa circondariale di via Sforzesca. Scagionati Zefe e altri quattro accusati dell'assalto alla Questura, i fatti avvennero nel 2020 ed è stato condannato perché minacciava i genitori. Datemi i soldi, ho rompo tutto. Questa mattina a Cameri gli studenti a Villa Picchetta discutono di ambiente e poi il mito di Fausto Coppi. In una mostra al Castello che verrà inaugurata oggi alle 16.30 a Novara e sempre a Novara nel pomeriggio, al campus dell'Università del Piemonte Orientale, verranno premiati i laureati più bravi. Il fast park di via Marconi non dovrà essere demolito, rassicurazioni dall'assessore Zoccali in commissione, c'è una soluzione. Nelle variazioni di bilancio era stata stanziata la somma per abbatterlo, così non sarà. E oggi, molto probabilmente nel tardo pomeriggio, aprirà il ponte sul terdoppio. Le operazioni di asfaltatura che erano state avviate ieri si sono dovute interrompere per il maltempo che si è abbattuto sulla zona, dunque proseguiranno nella giornata di oggi. La squadra civica di Monti, ecco i volontari per Arona, l'ex sindaco dice, non interessa il colore politico ma l'impegno. Ia Bellinzago, Spunghini per il BIS, la minoranza svela lo sfidante, il sindaco elenca i risultati, domani il nome dell'opposizione. C'è anche il VCO tra i 17 casi in Piemonte di amministratori bersagli di minacce, la regione al nono posto su scala nazionale e due gli episodi avvenuti a Macugnaga. Provincia, bilancio in salute dopo il rischio di fallimento, a Verbania si attende l'ultimo via libera della Corte dei Conti per riprendere ad assumere. Notte dei licei classici, studenti in scena tra dibattiti e teatro, stasera a Verbania, Domodossola e Omenia. Quante porte in faccia prima di farcela? Ai giovani dico di continuare a crederci. Ci sono le parole di Alberto Fortis, il cantautore ossolano, è stato protagonista mercoledì dell'incontro, la stampa è con voi. E poi non ci sono novità, sull'anziano sparito da baceno da cinque giorni, nessuna traccia per l'ossolano Orlando Ghitti di 86 anni. L'ossola piange Roberto Fantone, psicologo, insegnante sportivo, morto per un malore a 44 anni da calciatore, giocò anche in Serie C, ora amava la montagna. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15 nella chiesa di Preglia. E l'ultimo saluto anche all'ex sindaco di Formazza, Luigi Antonietti, ha fatto tanto. E poi l'appuntamento con gli spettacoli, canzoni, storie ed emozioni, celebrano il mondo di Mina. Stasera al Teatro Pellico di Trecate, il concerto racconto dell'artista vercellese Jenny Rospo. Domani andrà in scena la commedia 38 giorni per cambiare del duo teatrale Barbieri e Conti. L'astronauta della lentezza, il laboratorio Mostra e Tour, quest'oggi alle 17 a Novara. E poi il fotografo Mario Finotti sarà alla Fondazione Faragiana questo pomeriggio alle 16 e 30. Ci sono poi altri appuntamenti in provincia. Omenia, horror e musica live c'è non sferato. Stasera al Cinema Sociale, il film muto del 1922 viene accompagnato dalla band Super Shock. E a Verbania, tre giorni a tinte gialle, col festival È stato il Maggiordomo. Da oggi a domenica in biblioteca incontri con autori di libri noir. E andiamo a vedere la situazione dello sport. Novara, la salvezza diretta, passa dalla vittoria a Trieste. Domani alle 18 e 30 tutte le partite della penultima giornata in contemporanea. Gli azzurri spalle al muro devono anche guardarsi alle spalle e non farsi superare dal Fiorenzuola. Il tecnico Gattuso potrebbe ritrovare tra i convocati Bertoncini e Corti. Per la pallanuoto Waterpolo retrocesta ancora a zero punti. In serie B un'annata nera a tre partite dal termine. Per il basket in serie C fulgora il match decisivo. A Bagnella con Chivasso stasera alle 21. Lancio di una bottiglia, insulti agli arbitri. Squalificato il Pedroli un turno al campo del Verbani. Al presidente dice ci dissociamo da questi comportamenti. Gravellona, buon inizio di stagione per i giovani talenti dell'arrampicata. I portacolori della società Chalk Norris, protagonisti a livello regionale e nazionale. Poi la nuova avventura dell'ossolana Alessia Pozzi con il team Scarpa Yaut nella Corsa in Montagna e Trail Giovanile. Infine presentata l'Alf Marathon Vetrina del Lago Maggiore, sedicesima edizione in programma domenica 28. Puntiamo a superare le 1.500 iscrizioni. I settimanali della Diocesi, l'azione riapre il ponte sul Derdoppio. Senso unico invece sul 25 aprile. Normalità su una strada, tornano i limiti sull'altra. I lavori per ridare efficienza al traffico cittadino. E poi l'azione ci ricorda la manifestazione, la camminata per la pace, che appunto è stata a metà settimana con la partecipazione dei bambini delle scuole elementari. L'informatore ai 100 anni di Nicolazzi tra politica e partite a scopa. L'azione amministrativa, gli hobby e le passioni è stato ricordato in un convegno a Villa Marazza. E poi nel Borgo Manerese, in marcia per conoscere il vino e il territorio. Nel Verbano, 5 milioni per la radioterapia con macchine d'avanguardia. Saranno installati acceleratori lineari e TAC di ultima generazione all'ospedale Castelli. E poi la solidarietà, l'Avis dona 4 iPad alla pediatria. Siamo alla stampa, i veri conti della sanità mancano 5 miliardi e 4. Il documento di economia e finanza smentisce il governo. Il 70% dei fondi utilizzato per costi arretrati o mangiato dall'inflazione. E poi il rapporto letta, l'Unione Europea è spaccata. Il Consiglio si divide sulle proposte per aumentare la competitività. La Germania no all'aumento del debito. Meloni fredda su Draghi alla Commissione. Felice che se ne parli, ma fino al voto è solo filosofia. E poi la foto dell'anno. Una palestinese e il corpo senza vita della nipote. Viene chiamata, nella sua interezza si vede, la pietà di Gaza. Che ricorda la celebre pietà di Michelangelo. Scambio Raffa-Iran, no di Biden. Ma proprio sull'Iran ci sono gli aggiornamenti. Non vengono riportate le notizie quest'oggi dai quotidiani. Perché avvenute poche ore fa. Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran. Ci sono state esplosioni vicino a Espan. Ci sono aggiornamenti continui sulle notizie. Israele aveva comunque comunicato agli USA che non avrebbe colpito i siti nucleari. Era stato chiuso lo spazio aereo dell'Iran. In questo momento la notizia che ha riaperto lo spazio aereo dopo l'attacco israeliano. E tra l'altro è stato comunicato da Israele che non ci sono stati danni. Che l'attacco è stato di lieve portata. Ci saranno ovviamente continui aggiornamenti nelle prossime ore. Corriere della Sera. L'Europa tra accordi e tensioni. Dal Gisette passi avanti. Su contraerea Kiev e sanzioni. Scontro sul mercato unico. Meloni spero che a giugno l'unione sarà diversa. Draghi ai vertici per ora. E pura filosofia. Poi abbiamo il calcio con l'Europa League. Ieri sera l'Atalanta ok. La Roma vince in 10. Ma il Milan crolla ed è eliminato. Il maltempo fino al 25 di aprile con il ciclone Gori. Ancora inverno. Quest'oggi le temperature erano davvero basse nella notte. Solo due gradi. E poi un'intervista con Maria Franca Fissolo Ferrero. La moglie di Michele Ferrero. E dice... Creò il nome Nutella in due ore. Racconta la vita con l'imprenditore. Ma andiamo agli economici. Italia Oggi il PNRR ha ingranato la quarta. Patente a punti nei cantieri. Poteri sostitutivi per il rispetto degli obblighi degli enti locali. Assunzioni in sanità e pro-life. Nei consultori. Il decreto legge 19 al via libera definitivo. E poi il sole 24 ore. Abbiamo visto Orsini, presidente di Confindustria, con la sua squadra che è stata presentata ieri. Imprese unite per la crescita. E c'è anche una componente, appunto Lara Ponti, che è vicepresidente di Confindustria, che è proprio di Ghemme nel Novarese. In India il voto dei record. Modi cerca il Tris. E poi i mercati fiducia al top da due anni in un sondaggio. Dunque si spera in un continuo miglioramento della nostra economia. Andiamo a vedere la situazione del tempo. Nel fine settimana avremo poco nuvoloso generalmente. Vento previsto domani mattina. Peggioramento domenica sera con l'arrivo delle piogge, che continueranno anche lunedì e martedì. Temperatura minima di 4 gradi. Temperatura massima di 18 gradi. Davvero tutto. Vi auguro un buon fine settimana. Vi ricordo l'appuntamento con il TG Question Time. Domenica sera alle 20 saliremo sul campanile della Basilica di San Gaudenzio, il campanile dell'Alfieri con il FAI di Novara. A tutti voi buon fine settimana. Arrivederci. A presto. 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 A presto.